Oggi top storie Il gigante dell'e-commerce, AVCI, ha annunciato la consegna espressa gratuita e uno sconto del 50% su ogni articolo venduto nel suo negozio questo mese. Inoltre, AVCI sta costruendo più centri di smistamento e magazzini in tutte le città del mondo per velocizzare le consegne. Qui ad AVCI, gli articoli vengono smistati in 5 minuti dalla nostra unità di azionamento robotica. Un robot viene attivato quando un ordine viene effettuato per essere elaborato, identificato e scansionato per la consegna. Tutti gli ordini ricevuti vengono immediatamente elaborati dai nostri addetti dedicati. Sfrutta l'apprendimento automatico dell'intelligenza artificiale, la robotica avanzata, un sistema di pagamento sicuro e altri componenti high-tech. Per sicurezza ed efficienza. I nostri dipendenti sono il cuore e l'anima della nostra attività. Alcuni di loro sono italiani, danesi e membri attivi della comunità. E alcuni sono qui con i loro cari. In qualità di membro premium del Summit annuale globale di Consumer Return Management, disponiamo di un'unità robotica interamente dedicata alla rapida elaborazione dei resi dei clienti. Per le garanzie e il relax dei clienti, i resi vengono ricevuti ed elaborati nel più breve tempo possibile. La maggior parte dei nostri venditori conferma i diritti di protezione dell'acquirente. Gli articoli vengono ricontrollati, imballati, monitorati e spediti per la consegna. AVCI collabora con gli uffici postali di tutto il mondo per un servizio di consegna delle cassette postali. Abbiamo collaborato con altri 29 servizi di consegna internazionali, come BRT, Post Italiane, GLS, TNT, DHL, FedEx, CityPost e UPS, tra gli altri. AVCI garantisce la consegna sicura del tuo pacco, a te o a chi ti è stato assegnato, alla data e all'ora stabilite. Situato in 89 paesi, in tutte le regioni italiane e nella maggior parte delle città italiane. Non c'è offline quando si tratta del nostro servizio. La nostra consegna espressa è per lo più puntuale. Dalla Sicilia, Emilia-Romagna e Piemonte, alla Puglia, Toscana, Calabria e Sardegna, tra gli altri. Caricati con milioni di scorte, i nostri prodotti sono approvati e di standard. Vendiamo prodotti unici, di qualità ed eccezionali. Molti dei quali sono prodotti di eventi, spettacoli e mostre. L80% dei nostri articoli sono scelti e allevati da esperti. Crediamo che senza standard non ci siano limiti. Anche la nostra recensione cliente autenticata, tramite QR, parla bene di noi. AVCI ha dimostrato sia online che in negozio che la vendita al dettaglio è un modo. Noi italiani vogliamo fare acquisti. Acquista di più con AVCI.